Vincenzo Calandrelli di Ajafa, due parole sul camp. È un argomento, io essendo un ex giocatore, allenatore, con cui mi sconto con gli abiti, sono in una posizione difficilissima, quindi cedo la parola e vi lascio dire quello che vuole, perché sennò poi il prossimo anno a Silent, in ultima partita mi ha sgrindato, ma era molto arrabbiata. Sì, sono due parole, grazie di averci dato l'opportunità. Noi come Ajafa siamo 30 anni, un'associazione di 30 anni di arbitraggio, abbiamo visto tutta la storia del football in Italia. Il nostro obiettivo è sempre quello di aumentare il nostro livello di arbitraggio per evitare di avere quei problemi che si hanno in altri sport. Questa occasione è la prima occasione che vogliamo sfruttare per alzare la stricenda dell'arbitraggio. Abbiamo invitato i nostri due amici, Cano e Perry, il loro padre di ogni anno al nostro clinico italiano. Questo clinico che abbiamo organizzato sarà un livello A, quindi vogliamo eccellere e aumentare l'eccellenza dell'arbitraggio italiano. Grazie per l'ospitalità. Grazie per l'ospitalità.